Storie di ordinare a solidarietà, si attivano tante iniziative, una di queste è quella della ristorante pizzeria Iello a Grosseto che fornisce dei primi e delle pizze in maniera completamente gratuita agli operatori che stanno in questo momento effettuando il loro servizio all'interno degli ospedali. Abbiamo preso questa iniziativa con mio fratello perché ovviamente noi, essendo un'attività storica di Grosseto, vogliamo ringraziare intanto i grossetani che ci hanno dato la possibilità di crescere in questa azienda e poi vedendo comunque degli operatori all'interno dell'ospedale stanchi abbiamo ritenuto giusto comunque dargli anche questa possibilità sicché per noi lo facciamo veramente con il cuore, siamo contenti di questo. Un'iniziativa che si estende per quanto riguarda la consegna a domicilio a tutte le persone che lo desiderano quindi voi andate a consegnare in maniera gratuita senza nessun aggravio a tutte le persone che lo vogliono. Sì, sì, è vero. È un servizio che noi dobbiamo assolutamente fare per ringraziare appunto la popolazione di Grosseto. Noi facciamo il massimo. Siamo in tre, quattro persone che lavoriamo dalle sei del pomeriggio fino alle dieci e mezza di sera ininterrottamente. Abbiamo tre macchine che giriamo per il Grosseto. Quante consegne fate? Quante persone vi chiamano? Abbiamo iniziato che ne facevamo una ventina, trenta. Siamo riusciti ad arrivare anche a trentacinque, quaranta consegne, cinquanta. Invece per quanto riguarda il servizio che fate ai sanitari, quanti pasti erogate? Quante pizze portate? Allora noi intanto si parte con una decina di pizze e dieci, quindici primi. Ovviamente le pizze non è che le scelgono, le scegliamo noi. Facciamo pizze margherite e pizze normali, magari chi bianca, chi con i funghi, con il salame. E ovviamente facciamo ogni sera, cerchiamo di dargli qualcosa di diverso, tipo l'altra sera le garganelle all'uovo alla boscaiola, con i funghi porcini. Stasera gli faremo le penne al salmone, salmone fumicato. Domani forse gli faremo le penne al granchio, perché abbiamo anche il granchio, abbiamo anche gli scampi, abbiamo le cozze, le vongole. Insomma, cerchiamo comunque di dare un menù variegato, se no poi è anche vero che mangiando la stessa cosa non va bene. Complimenti. Grazie mille. Grazie mille.